ciao mamma e papà in dolce attesa oggi parliamo dei vari tipi di parto e della possibilità di scegliere perché in realtà una possibilità c'è ovviamente quando il ginecologo decide che un bambino per la posizione podalica o per un parto gemellare o per una situazione medica prevede necessariamente un parto cesareo allora a quel punto non è possibile scegliere bisogna affidarsi alle cure mediche in estrema serenità ma qualora si parla di un parto fisiologico naturale normale ci sono varie possibilità di scelta la prima possibilità è quella del parto fisiologico non medicalizzato quindi la donna chiede che il tutto venga vissuto in maniera più naturale possibile senza grandi interventi da parte del personale medico poi c'è la possibilità invece di essere supportati con l'epidurale per la gestione del dolore l'epidurale è proprio una tecnica che prevede attraverso l'infusione di analgesici la possibilità di non sentire il dolore dalle prime fasi del travaglio fino alla fase espulsiva ma questo non comporta assolutamente nessun tipo di limitazione dal punto di vista sia dei movimenti perché la donna può camminare sente comunque la comunque ancora la sensibilità delle gambe e è soltanto legata a una flebo con appunto un ago per l'infusione del dell'analgesico appunto ci sono poi altri strumenti per il parto altre scelte che si possono fare che sono il parto in acqua è un parto ovviamente che viene vissuto con in un'atmosfera un po magica perché il rapporto con l'acqua spesso porta la donna ad avere una situazione più di calma e il bambino soprattutto passa da una situazione all'interno della placenta e quindi del liquido amniotico della mamma da una situazione di acquaticità intrauterina a quello comunque dell'acqua della vasca dove la mamma partorirà e quindi sicuramente è un passaggio un po più dolce anche per il feto il neonato c'è poi la possibilità di partorire in casa che ultimamente è una visione presa in considerazione seriamente da molte donne in alcuni centri specializzati viene quindi consigliata e affiancata alla donna ad una figura che può essere l'ostetrica o la dula che sono queste figure che accompagnano proprio la donna e il compagno quindi la coppia genitoriale in tutte le fasi del travaglio all'interno di un ambiente più casalingo che può essere la casa stessa della coppia oppure una struttura molto simile ad una casa quindi con una cameretta un letto un bagno quindi non assolutamente lontana da una struttura ospedaliera come vi dicevo come avete visto le possibilità sono veramente molteplici c'è solo una cosa importante che è quella di documentarsi confrontarsi con tutto il con tutto lo staff quindi il ginecologo e l'ostetrica rispetto alle possibilità soprattutto le possibilità unite alla situazione della gravidanza stessa quindi fate prima un check up completo verso la fine della vostra gravidanza e a quel punto potete confermare un tipo di parto rispetto ad un altro